Il fair play. In questo tutorial dedicato al fair play, dopo una breve introduzione, vedremo che cosa significa il termine fair play, quali sono i principi a cui attenersi e esempi concreti di fair play nello sport. Infine parleremo di fair play finanziario. Quindi, cominciamo. Il fair play, letteralmente gioco corretto, è un concetto che nasce in Inghilterra nell'Ottocento e viene concepito inizialmente per le competizioni sportive. Con il tempo si fa spazio in altri ambiti e si diffonde anche nei rapporti sociali e nella politica, perché il fair play ormai non rappresenta solo un modo di comportarsi, ma anche un modo di pensare. Definirlo come il semplice rispetto delle regole nel gioco sarebbe riduttivo, poiché si tratta di un concetto che si collega e ne presuppone altri, di grande rilevanza, quali l'amicizia, il rispetto degli altri e dell'avversario, lo spirito sportivo. Cosa significa in concreto? Il riconoscimento del fair play da parte della politica e delle istituzioni è avvenuto gradualmente, via via che il concetto si radicava sempre di più nella mentalità degli organismi di governo dello sport. Ed è così che nel 1992, durante la conferenza di Rodi, il Consiglio d'Europa, costituito per l'occasione dai ministri dello sport, approva il codice europeo di etica sportiva. Si tratta di un documento che, pur non fissando regolamenti precisi, prevede un quadro di comportamenti con l'obiettivo di diffondere una mentalità sportiva che sia condivisa in ogni attività. In questo contesto il fair play deve guidare l'approccio allo sport che vede come principi cardine la lotta ai brogli, al doping, alla violenza verbale e fisica, alle discriminazioni. Un criterio guida quindi a cui tutti coloro che promuovono esperienze sportive per giovani e bambini devono attribuire la massima priorità. Praticare uno sport con fair play significa avere l'opportunità di conoscersi più a fondo, di fissare e raggiungere obiettivi attraverso l'impegno e la costanza, di integrarsi con gli altri, di interagire, di divertirsi e di mostrare le proprie abilità tecniche. Quali sono i principi a cui attenersi? Quando lo sport non viene contaminato da interessi politici ed economici, dall'ignoranza e dalla prepotenza, è una delle attività maggiormente formative ed educative. Tra le principali caratteristiche dell'attività sportiva c'è sicuramente l'immediatezza del suo linguaggio che la rende comprensibile da tutti e capaci di trasmettere valori fondamentali e universali. In particolare, quando si parla di sport e di fair play, che si tratti di atleti o di tifosi, è importante attenersi ai seguenti principi. Giocare per divertirsi, giocare con lealtà, rispettare le regole del gioco, rispettare i compagni di squadra, gli avversari, gli arbitri e gli spettatori, accettare la sconfitta con dignità, rifiutare il doping, il razzismo, la violenza e la corruzione. E poi ancora, essere generosi verso il prossimo e soprattutto verso i più bisognosi, aiutare gli altri a resistere nelle difficoltà, denunciare coloro che tentano di screditare lo sport, onorare coloro che difendono lo spirito olimpico dello sport. Esempi concreti di fair play nello sport. Dirigente sportivo, educatore, storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni giochi olimpici, Pierre de Coubertin amava ripetere che l'importante non è vincere, ma partecipare. Un concetto semplice ma colmo di saggezza, che nella pratica è stato messo in atto attraverso incredibili esempi di fair play. Vediamo tre episodi famosi. Era il 1964, durante l'edizione dei giochi di Innsbruck, quando l'atleta italiano Eugenio Monti venne sommerso di applausi per il suo gran cuore. Nel corso della finale della gara a squadre di Bob, la squadra britannica riscontrò un problema tecnico che, se non risolto, le avrebbe impedito di gareggiare. Proprio in quell'occasione Monti prestò agli avversari il suo bullone per permettergli di continuare la competizione, che poi avrebbero vinto. Ciò che colpì di quell'episodio non fu soltanto il gesto di grande sportività del campione, ma il modo in cui l'azzurro commentò la sconfitta. Hanno vinto perché sono andati più veloci, non perché gli ho prestato il mio bullone. Vediamo un altro episodio. Un altro esempio concreto di fair play proviene dal calcio, un mondo che spesso è stato messo sotto accuso ma che, in questa circostanza, ha mostrato il suo lato migliore. Il protagonista di questo memorabile episodio è Paolo Di Cagno, che nel dicembre del 2000, durante una partita con indosso la maglia del West Ham, entrò nella storia del calcio inglese. Il giocatore italiano, infatti, trovatosi solo davanti a porta, rinunciò a un probabile gol e fermò il pallone con le mani dopo aver visto il portiere avversario a terra a causa di un infortunio. Infine il gesto di Brian Dabo risale agli ultimi mondiali di atletica di Doha nel 2019. Il 27enne atleta della Nuova Guinea si guadagnò di applausi e ovazione di tutto il pubblico per essersi fermato a soccorrere un altro atleta. Il suo gesto, insieme ai restanti 250 metri percorsi e abbracciato dal suo avversario, continuano a commuovere e resteranno impressi nella mente di tutti coloro che amano lo sport. Parliamo infine di fair play finanziario. Il fair play negli ultimi anni è diventato un obiettivo fondamentale per il benessere generale dello sport e non soltanto delle norme di comportamento da rispettare sul campo da gioco. È nato il concetto di fair play finanziario, cioè una riforma di grande impatto nella storia dei club e delle competizioni europee, fortemente voluta dall'allora presidente dell'UEFA Michel Platini. Il fair play finanziario ha approvato nel 2010 ed è entrato in vivore nel 2011, come dice il nome stesso, propone di migliorare le condizioni finanziarie generali del calcio europeo. Prevede che le squadre che si qualificano per le competizioni europee, quindi sia la Champions League che l'Europa League, parlo ovviamente di calcio, devono dimostrare di non avere debiti insoluti verso altri club, giocatori o autorità fiscali nell'arco della stagione. Devono quindi dimostrare di aver pagato i conti. Il principale nemico contro cui combatte il fair play finanziario è il doping finanziario, cioè il truccare i bilanci e i conti da parte di certe società sportive per permettersi di acquistare e pagare certi campioni che altrimenti sarebbero al di sopra delle loro possibilità. Alcune società anche molto famose hanno attuato questa strategia per vivere alcune stagioni al top a livello mondiale o nazionale, salvo poi essere state costrette a dichiarare fallimento quando i brogli sono venuti alla luce.